musicale vai rossate il tempo Santello Santello vuol dire salutare fermato un po' 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 camminare vuotare sciare vai bago brazzo voglio sentirti campana ok 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 passare capelli capelli ordine saluti capelli se si ricomincia adesso vi metto alla prova ecco pronti fermi tornare salutare mi raccomando a tanti che ho avuto un po' un po' faccio faccio camminare camminare mutare sciare calcio grazie 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 mi raccomando a tanti che ho avuto un po' Via, sottile, cadavole, con il torno, cadavole, sbagliare, 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 Grazie 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 Buongiorno Piensele Vabbè ci fa fare, fa fare Prima Spider-Man, Spider-Man Ok con Spider-Man Spider-Man Non ci credo Infermina io l'avevo lasciata Bambi si calmi Io l'avevo lasciata Andate in camera ragazzi Fuori 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 Andate tutti in camera Infermina io l'avevo lasciata Porta anche la cartella clinica Controlli bene i dosaggi perché secondo me c'è qualcosa che non va Rispondo a questa chiamata un attimo Pronto Primario Buonasera Certo certo La situazione è tutta sotto controllo Non si preoccupi Cioè molto sotto controllo Sì no sono tutti tranquillissimi Molto 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 tranquilli Sì 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 Io credo che non uscirò per questo fine settimana Credo che rimango qui con loro No ma non perché c'è qualcosa che non va È giusto per controllarli Per vedere un attimo com'è Sì sì poi la richiamo io Grazie grazie Certo certo Che si può fare per campare Ce la si può fare Questo è un manicomio Abbiamo fatto questo piccolo omaggio Perché nel mille Negli anni 80 Inizio degli anni 80 Vennero trovate delle lettere In tanti manicomi In giro per l'Italia Lettere d'amore Lettere scritte alle famiglie Lettere scritte ai figli Lettere di malati Di pazienti Di persone rinchiusi in questi istituti Per tanti e tanti e troppi anni Lettere mai spedite Lettere mai arrivate Lettere che le famiglie Non hanno mai avuto modo e possibilità Purtroppo di leggere Lettere che i dottori Allegavano alle cartelle cliniche E quindi rimaste lì impolverate Per tanti e tanti e tanti decenni Fortunatamente questi manicomi Sono stati chiusi Le persone che hanno questo tipo di problemi Sono ritornate nelle loro famiglie E noi a loro E alle persone tipo Alda Mirini Grandi nomi Che hanno accompagnato questa causa A loro abbiamo voluto dedicare Questo piccolo spettacolo In maniera simpatica E con un sorriso Quindi cercare di unire Le cose che riguardano Tutto ciò che è sociale Alla risata Ecco perché Un sorriso sul mare Quindi con questa facciamo La sigla Del nostro Del nostro Maniconio Matti Tutta per voi Sigla Sì Infermiera La sigla Qui La facciamo qui Sigla Questa è anche per voi Perché tutti possono Ballare La facciamo qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.